e io sono ben tornati in questo nuovo video delle clasher oggi siamo qua in un gioco incredibilmente ultra e che grafico ultra signori oggi siamo qua con indovinate un po totally reusable devlivery vabbè shish posso giocare per favore come si avvia una partita una partita come si avvia mi è comparso lui cosa stai facendo old esk dro andiamo a comando già così raga un premio nobel per sto gioco ragazzi sono già innamorato di questo gioco solo per quella scena lì sentite i versi sui i suoi effetti sonori è un cane player 1 posso dargli un nome invece che player 1 chiamiamolo pippo allora come funziona madonna no ma fammi le andiamo ciao posso picchiarti mi ha picchiato lei grazie mille lmb che c***o sarebbe raga ho dei problemi tecnici su su vai a prendere sto pacco raga praticamente dobbiamo consegnare i pacchi come faccio a prenderlo lo trasporto così quanto sei ubriaco zio cosa stai facendo ma cos'è lmb raga cosa mi rappresenta mlb che cosa sta facendo quella lì dietro lmb è il tasto destro del mouse vabbè mettilo 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 olè aia non anche me mollati addio raga come nuovo un cubo di rubik grazie molto gentile ma vaffanculo ah forza devi guadagnare i sordi ale perfetto alzalo sto regalo ah bravo fai pesi madagna posso andarmene fuori dalla mappa voglio svolgere altri lavori posso correre invece che saltare looking for another delivery shish ah con shift posso correre vai minchia che corsa decisa che hai frate prendi sto pac vai dove vai ah devo metterlo qua dentro buona fortuna su su ho spaccato il coso ma va bene così eh si vabbè spacca la macchina wow sono emozionato dove lo devo portare vai 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 tutta velocità corri raga che cosa minchia ho preso di preciso basta fare versi di cani buongiorno grabbalo prendi grabba bene raga non dobbiamo fare domande ah 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 cosa sto facendo ma cosa fai quanto ubriaco metti il pacco lì lì oh ce l'hai fatta finalmente ragazzi si posso farmi vestire ma che cazzo è andiamo in vacanza belle idea ragazzi io volevo sempre andare in vacanza no e vabbè c'è un nuovo coso per consegnare wow grazie e nico il pacco grabbalo ci riesco a metterlo lì sopra ma è qua comanda non devi andartene tu honk si ma se è davvero problematico e fatelo dire non ho capito raga aiutatemi ma che cos'è ma guardate se devo fare limbo per passare qua sotto ma lei thank you non c'è di niente uomo pirata c'è l'elicottero ah si è vero ci divertiamo dai forza ma lei ehi grabbalo mi spiegate come sono morto devi metterci impegno bravo non farlo esplodere questa volta sai potrebbe essere un'idea dai frate non è difficile come mori come muori da lavorare qua raga secondo me dovrebbe andare all'olimpia di questo andiamo con questo aggeggio che non ci sbatta di camminare andiamo chi ce ne frega vai sei ancora in vita e non è da poco non devi andare nei cespugli salve sono sempre io come mi hanno angaggiato non ne ho idea la cosa bella è che questo gioco è gratuito vabbè se fosse pagamento mi preoccuperei effettivamente lo puoi prendere o hai dei problemi raga è così difficile ma c'è un timer che in cui il timer esplode esplode quando vuoi ehi bravo 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 devi soltanto andare ho capito state calmi ok ok raga ce l'abbiamo non mi cadere che ti eh vabbè e voilà ragazzi ce la si fa ce la si fa ve lo dico io prima ce l'abbiamo fatta si vabbè ma dai ma se mi esplodi così alzaci c'è ancora il mio quad no è scomparso mi raccomando lasciate un bel mi piace per per pippo se volete un secondo episodio wow incredibile se volete un secondo episodio di questo incredibile gioco costruttivo arriviamo esattamente a 60 50 no dai 50 mi piace perché voglio così barbone dove fai minchia raga voglio vedere vuoi assaltare un elicottero spostarlo un po' più all'interno non all'esterno all'interno ho detto vabbè ti prendo con tutte e due ho detto che ti prendo con tutte e due non ti lascio va bene non atterrar sul tetto non atterrar sul tetto pippo flip challenge raga gli ultimi due tentativi perché c'ha basta ma come muoio c'ha le radiazioni questo elicottero che elicottero non si può definire dai 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 ci riesci a saltare come una persona normale adesso si che è saltato ci riesci a prendere una cosa come una persona ok bravo 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 come ho fatto a sollevarlo? con control ditevelo prima che con control si sollevano le cose va bene non cadere non cadere ora io vado qui no no calmati che tu hai gli spasmi dai nooo ragazzi niente è impossibile ve lo dico io e se ve lo dico io ho ragione lascialo raga è fatta è fatta ve lo dico io comanda questo aereo che c'è la patente forza cosa hai bevuto ieri sera dai raga raga è la volta giusta è la volta buona non devi mollare nooo perché 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 hai fatto sta scelta va bene raga io direi che possiamo concludere qua questo gioco incredibile facciamo 60 mi piace lo riporto anzi no 50 perché sto gioco bene raga penso che possiamo terminare qua questa avventura incredibile in questo gioco incredibile spero che questo vi sia piaciuto se è così mi raccomando lasciate un bel mi piace iscrivetevi qua sotto al canale se siete nuovi e attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica noi ci vediamo al prossimo video ciao